E qui al barpacco ragazzi di penne tattiche ne abbiamo viste davvero parecchie sono a disposizione queste di 511 e anche tutte quelle di Nightcore anzi date un'occhiata perché le state vedendo passare a schermo ma c'è tanto da scoprire ora arriva una novità di Right in the Rain Right in the Rain l'abbiamo conosciuta da poco qui su Backpacko ma la conosciamo da sempre ed è un marchio che produce blocchettini negli Stati Uniti resistenti all'acqua ebbene io stesso ho riscoperto un po' il piacere di portare in escursione blocchettini di carta ma proprio nella vita di tutti i giorni nell'EDC un block notes che mi permette di tenere il telefono da parte e concentrarmi un po' sulle idee altrimenti prendo il telefono comincio a chattare comincio a parlare con altri a vedere le notifiche e questo mi allontana da quello che volevo fare in quel momento cioè pensare ecco però mi piace farlo con gli strumenti giusti blocchettini Right in the Rain, li conosciamo, i quadernini è una penna fantastica, tattica che racchiude però tutte le funzionalità dell'inchiostro proprietario di Right in the Rain Cosa vi devo dire della A050 di Right in the Rain? Beh ragazzi innanzitutto è una penna tattica con tanto di spaccavetri dissimulato qui nella punta il grip è massimo, è tosta e non si muove dalle mani ha una clip in acciaio armonico anche removibile ed è fatta negli Stati Uniti per scrivere apertura bolt action come una carabina guardate che bello si mette qui e di qua, è fantastico il corpo è tutto in alluminio, questo pezzo qui, mentre il puntale è ovviamente in acciaio e la cartuccia all'interno è pressurizzata per resistere alle temperature estreme e per scrivere soprattutto in ogni angolazione e in ogni direzione proprio come quelle della Space Pen della Fischer di fatto le produce Fischer ma con l'inchiostro segreto di Right in the Rain trovate comunque anche disponibili sempre su Backpack.it le ricariche di Right in the Rain che sono compatibili a dire il vero anche con le penne di 511 e voglio aggiungere una considerazione mentre magari uno spaccavetri che è presente in alcune nightcore o qui nella Vlad uno spaccavetri in garburo come questo potrebbe dare nell'occhio e anche infastidire un po' qualcuno beh ragazzi qui non c'è niente che dà particolarmente fastidio ma la punta è pronta per fare il suo quindi è una penna tutto sommato normale dà un look sicuramente tattico ma non timorente non è una cosa che fa soggezione il bello è che quando poi la vai a prendere per usarla come penna tattica hai un grip eccezionale che è una cosa che io premierò sempre sulle penne per lo scopo tattico grip eccezionale e funziona super bene sia da aperta che da chiusa perché il puntalino qui è anche un po' affilato e la qualità ragazzi si capisce anche dai dettagli questo forellino per un lineard per un paracord potrebbe aiutarci nell'estrazione dalla tasca se lo preferiamo e il bolt action qui è godronato a delle zigrinature che ci permettono di acchiapparlo con le dita senza problemi anche con i guanti o con le mani sporche perché questa rimane una penna right in the rain non dimenticate di dare un'occhiata un po' a tutta la linea di right in the rain sono arrivate le matite e portamine la settimana scorsa e ancora ne arriveranno di cose imperdibili